ciao a tutti e bentornati nel canale di Alice eccoci con il secondo video dei regali di compleanno di Alice e c'è anche le grai baby casa, le grai baby storyland e le blubis e queste chi ce le ha regalate? la mamma e il nonno tutò, che li salutiamo? ciao ciao allora da che cosa iniziamo? dalle grai baby, dalle grai baby storyland quindi mettiamo da parte questo allora vediamo no non ci servono le forbici abbiamo questa confezione eccola qui quindi noi siamo passati dalle case ciù le case a forma di liberon le case alate le case alate blitterate le casette dei cuccioli le casette e a come si chiama? un bicchiere quello da frappè e ora abbiamo il il castello si laviamo questo aspetta questo ah no questo si tirà giù così no perchè c'è lo scotch da dietro allora aspetta tu quale vorresti? vediamo quale vorresti? Alice lei oh allora andiamo aspetta si ho capito allora bisogna aprire questo che Alice ha già aperto poi c'è questa questa chiavetta che va inserita la in realtà la mettiamo qui giriamo si e si aprirà e si aprirà si 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 puoi vedere prima la grai baby vediamo allora abbiamo il booklet e Alice ha trovato? pinocchio 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 ecco qui ah perché c'è il sole non si vede guarda allora i personaggi guarda eccolo erano pinocchio Alice nel paese delle meraviglie Peter Pan il porcellino cappuccetto rosso e questo che non so chi sia chi è? questo non lo so chi è vabbè e poi c'era babbo Natale che è quello raro quindi noi abbiamo trovato pinocchio e cric ci sono gli stickers allora ci sono gli stickers eccoli qui ed ora li andremo ad attaccare nella casetta e li possiamo attaccare sia qui che nella casetta di cricca si chiamava ma non mi ricordo più guarda pinocchio aspetta tadaaa e li attaccheremo anche qui dentro però vediamo che sorpresa abbiamo trovato ora prima casellina abbiamo trovato una marionetta di pinocchio quindi si vede una marionetta la mettiamo qua vicino a cricca seconda sta bene così si rompe aspetta giriamo così la casetta e c'è il ciuccio con il libro il ciuccio con il libro e glielo mettiamo subito metti glielo tu poi poi posso aprire io le caselle e aprile come non c'è da qui le apri da qui abbiamo trovato un altro ciuccio un ciuccio argentato wow wow che carino un ciuccio argentato che ha volato il ciuccio si poi guarda che l'ho già aperta qui il vestitino di pinocchio si che adesso adesso tu metti il vestitino anzi vabbè dai io metto il vestitino e tu apri ok aspetta il vestitino il vestitino giusto e lo mettiamo qui qui delle scarpine delle scarpine che sono più degli stivali secondo me e eccoli io direi che poi poi qui dobbiamo aprire questa qui che è la più grande vediamo 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 e c'è il ciuccio oh il ciuccio a forma di arcobaleno il biberon si però manca che manca di solito c'era il fiocchetto non c'è il fiocchetto no allora questo è pinocchio vestito proviamo prima mettere oh che carino oddio aspetta che c'è dentro la casa c'era 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 niente che c'è aspetta e trolla qui c'era quella carta qui non c'è più niente quindi non c'è il fiocco perché non ce l'ha però c'è il libro e questa è la particolarità di questa edizione degli storyland sicura che non è accaduto niente? no c'è con il ciuccio vabbè prendiamo un attimo l'acqua per riempire il ciuccio io lo voglio fare allora secondo me possiamo anche no senza riempire lui lo possiamo fare anche con mettiamo qualche goccia vediamo vediamo se dobbiamo fare così si si ed è la storia di Pinocchio chi vede bene? eccolo proprio darsi quando si asciuga li diventa bianco credo no? beh chi lo sa? chi lo sa? mettiamo gli guanti che fa freddo mettiamo gli guanti che fa freddo si ah ecco potevamo trovare forse vedete apri e scopri se l'hai trovato quindi potevamo trovare o il ciuccio il fiocco noi siamo stati fortunati abbiamo trovato il ciuccio se lo chiudiamo me ecco ora spostiamo questo e passiamo al secondo regalo ovviamente noi non l'abbiamo riempito però se gli diamo l'acqua e riempiamo la testa fin sopra gli occhi Pinocchio piangerà e usciranno le lacrime ecco qui spostiamo un attimo questo si toglie spostiamo questo e anche questo allora iniziamo dal booklet intanto tu cerca la l'apertura di qua iniziamo da questo ecco io voglio vedere il blu pezzo il blu pezzo ecco qui ecco qui vediamo eccole qui chissà quale troveremo mamma mi aiuto quindi queste sono tutte le ferie che possiamo trovare che si trovano nella lanterna e qui abbiamo le istruzioni si è da qui allora ma dove però è perché li chiudono benissimo e ce n'è un altro c'è un altro sigillo ok ok e poi c'è questo solo io ho paura che è questo allora abbiamo la nostra lanternina ora ora la prima cosa è aprire questa porticina dove troviamo la chiave quindi Alice ora aprirà la port la porticina laterale e noi abbiamo trovato una chiave a forma di farfalla rosa ora questa chiave Alice la deve mettere qui gira gira ecco aspetta eccolo quindi abbiamo una bustina le istruzioni e la nostra fatina vediamo li abbiamo trovato ecco qui è quella che volevo io quella che volevi tu sicuramente perché ha i capelli rosa abbiamo trovato regina fammi vedere eccola abbiamo trovato regina ora abbiamo questo che è il porta perla sicuramente e eccolo qui dammi la chiamone fabbici abbiamo questo e lo rimettiamo qui perché non si viene poi c'è anche un'altra vorticina vorticina però ecco ecco e qui ci sono le perle e c'è un solo uno c'è uno specchietto e la perla che noi metteremo subito qui ora allora questa vista da così è carina però se la metti così vedi che ha lo spacchietto ha lo spacchietto fatta male perché eh perché questa si apre perché dentro ci sono le batterie quindi basta incastrarla bene eh sì ma comunque rimane così però mi sarà così dai non è è carina è carina non è brutta dai allora adesso hai aperto? vediamo come funzionano per farla per farla illuminare per farla illuminare allora qui dentro invece abbiamo un altro portaperle delle ali aspettate che gliene metto una gollellina delle ali di riserva probabile e una sfera una perla glitterata si vede? e c'è un'altra cosa si vede così? se no la metto qui ci sono altre cose ci sono altre cose allora vediamo un attimo adesso come si illumina dunque questa si mette qui la avvicino vedo dove si illumina si illumina? no non vedo si si illumina si si illumina di verde si illumina di verde vediamo un attimo che carina non sai perché è carina? perché c'è più e lì lì si illumina di verde vediamo un attimo se si illumina eccola eccola anche se la appoggiamo sull'acqua ovviamente non la dobbiamo immergere ma mi provo eccola si vede? però prima di rimetterla qui ovviamente l'asciugiamo bene e ridogliamo tutta l'acqua diciamo così ma 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 allora la vestiamo perché se no fa freddo la vestiamo perché se no fa freddo mentre lei la veste noi vi salutiamo con regina Pinocchio e Crick vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video sempre a tema regali di compleanno si se ne sono altri si quindi lasciateci tanti like e scriveteci al canale ciao 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 ciao